Brondi brondesse me? Madonna ragazzi è brutto Pippo Grifo Per chi non si ricordasse Praticamente Pippo Grifo E' uno di quei livelli con gli aeroplanini E voi sapete che noi Non siamo particolarmente bravi con gli aeroplanini All'attacco del pippino Io invece mi sono presa il danno Cioè mi sta chiamando la nonna adesso Oh no! Oh no! No raga vabbè ho capito Cioè so cretina Il saluto della nonna che farà si che Riusciremo a fare Pippo Grifo al secondo tentativo Ragazzi buongiorno In bocca al lupo Oh no ho preso un danno Io rimango piccola Ok No ho preso un altro danno Vabbè ragazzi Vuoi farlo toccarlo Viola voleva proprio vedere cosa avesse dentro la bocca Non so per quale motivo io l'abbia fatto Pensavo di essere a distanza di sicurezza Però il covid non mi ha insegnato niente raghi Ah ok Eh Giusto? Eh Ma raga pensavo di essere viola Se non muoio ovviamente No vabbè No dai Ma perché è difficile da prendere Eh sì eh sì Bisognerebbe andare dentro E sparargli da dentro gli ovetti Ma cioè il rischio aumenta del 400% praticamente Quando vai dentro gli ovetti Eh ok 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 Questa è stata una buona mossa Buonissima Scusi Scusi l'ho gufata Guarda 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 Eh lo so Eh lo so È stata colpa mia che ti ho gufato Perché sennò ce l'avresti fatta secondo me Ragazzi questo Pippo Grifo lo sto dominando L'hai preso Madonna Brawl is surely brewing ragazzi Io vorrei passare agli altri boss però Quindi Pippo per favore Scansate Cioè scansate proprio Ok 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 qui c'è questa Adesso non mi ricordo cosa succede No 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 Oh no 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 My dog stepped on a bee Pensavo di essere Puoi ultare eh Sì infatti stavo aspettando che allargasse le Ma fa culo Quanti pianti Quanti pianti Oddio mi ha allargato Mi ha allargato Attenti Attenzione ragazzi Va bene altra cosa Eh no Questo è il momento in cui Ci sono po' di risultati per ragazzi vicino a te Ah come scusa Ragazzi vicino a te L'ho sentito bene Ok Sì Ci sono dei ragazzi caldi vicino a te Quindi abbiamo scoperto questa cosa Ah sono caldi Di questo l'avete detto voi però eh Sono caldi Sono palesemici ragazzi caldi E non Niente Scusa Non l'ho capito Ehi google stop Ma tanto non l'aveva capito Ma come ok Se arrivano altri uccellini Provo a prenderli io E' andata bene E' andata benissimo E' andata benissimo Viola ricordati che l'importante è non morire Ma papà Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ma vaffanculo Ma no 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 Eh ma qui non riesco Non riesce C'è solo una vita Non riesco ad evitare tutto No raga No raga Mi viene da piangere No Mi viene da piangere amici Mi viene da piangere Moro No no Ero quasi riuscita Ero quasi riuscita È abbandonato Dai dai Perché mi hai abbandonato No scusa Non volevo Ok adesso posso ultarlo anch'io Così almeno magari Cerchiamo di rendere questa fase Un po' meno fasosa Ok Molto Allora vi ho Eh E' che qui così non gli faccio danno Capito Quindi questo è un problema grosso No Grazie Non so perché ho cambiato anche il coso No 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 Madonna ti ulto Madonna ti ulto Madonna guarda come ti ulto No No Non ci posso credere Non ci credo Ok ragazzi Allora io direi che l'abbiamo masterato L'abbiamo masterato ormai questo boss Vedete no Lo vedete L'abbiamo masterato Di conseguenza questo sarà il momento in cui Pippo Grifo ci lascerà Perché sapevate anche voi che doveva arrivare questo momento Vada Vada signora No dai Che vitaccia Disse il cacciavite Vabbè ma so Scusate raga ho lanciato tutto Ok 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 tutto a posto Un tappetto Bene niente in ordine Oh Cristo Oh mamma Che paura Che paura Prendo anche questo Vai vai Sono pro Sono pro Ok posso ultare eh Vada Non è vero No non è vero Sì Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Veramente Sì 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 Mi sono fatta malissimo Porco somaro Accenditi Non ci credo Non ci credo ragazzi Sono 27 morti Sono 27 Pensavo di più Sono 27 Pensavo di più Ah io Eh no 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 Sta succedendo qualcosa Ma non so cosa sta succedendo Sono pronta a arrestarti Eh niente I believe No No Che felice No viola sei tutti noi Eh capirai Ecco Eh ma guarda dove mi spona il triathlon Dai Cristo santo Eh un po' meglio di prima comunque Un po' meglio di prima Cioè riesco a vedere più cose Mi sta laggando ma molto meno No Eh si vede no Eh si vede che mi sta laggando molto meno Perché sto facendo delle Delle Aspetta ok ok adesso Appena lo fa puoi ultare poi tra l'altro Ma io mi sa che ulto Ma dove sta vicendo No Eh guardate cretina Madonna sono riuscita a no Irene cosa ti Ti buffi da sola No 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 Ho dato la mia L'ho fatto No no volevo farlo Volevo farlo Irene Te lo meritavi Te lo meritavi Ma perché sei fatta Te lo meritavi cazzo Ma sei salama Così si fa Siamo pronti Alla disfattare Secondo me si Secondo me pure Vai a molle estremi Estremi rimoli ragazzi eh Vai Ok vado eh Vai vai Ecco Vado Sono andata benissimo No 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 eh ho capito dai Inserire bestemmia casuale ragazzi inserire bestemmia casuale per favore vuoi farlo tu cosa fallo tu ma dove vado con la vita muoio Vabbè andiamo insieme quindi cosa facciamo Eh sì una però c'è il pezzo del coso quindi No Irene addio No no che cazzo fai Vai Vai Irene Qua adesso muoio per salvarti No vai Vai vienimi appresso Giuro che non l'ho fatta apposta Ok allora ti dico roccia e sinistra eh Lo sapevo che non avrei dovuto Alla sinistra Alla sinistra Ah Oh sto quasi morta eh regà Ma Con calma con calma le cose si fanno Si fanno con calma le cose no Va bene va bene va bene facciamo Facciamo così Facciamo così Eh porco Eh lo sapevo Non posso neanche Sti pesci del cazzo Non posso ne scendere né salire